Antonio Pipio, fondatore di Health Coaching Academy Qual è il fatto più importante della cultura di impresa oggi in Italia? Tra mille novità, tra mille transizioni, qual è una cosa veramente importante? Credo che sia molto interessante il fatto che si stia comprendendo che la risorsa più importante oggi che abbiamo è l'essere umano Non è tanto il denaro, o meglio non è solo, ma l'essere umano è fondamentale sia nelle aziende come nell'individualità e che l'Istituto per l'autonomia, deputato alla formazione dei futuri professionisti scelga di cominciare a cambiare il paradigma all'interno delle proprie attività didattiche rivolte a chi vuole, vorrà essere un professionista della salute medici, infermieri, psicologi o tutti coloro che avranno, concorreranno la possibilità di intervenire nel benessere psicologico, psicofisico dell'individuo quindi il potere di aver avuto l'intuizione di inserire dei presupposti che consentano i professionisti di avere maggiori strumenti per poter agire nei confronti di quello che abbiamo già naturalmente che è la nostra, diciamo, è la capacità molto spesso, ecco, mi consente di dire una cosa si vede il cervello come un organo, mentre il cervello è un connettoma esiste perché esiste il corpo e quindi nel momento in cui noi prendiamo consapevolezza che tutto il corpo è intelligente nel 2020 le aziende stanno cercando sempre di più non solo, come diceva Romina, le competenze tecniche ma competenze di intelligenza emotiva quindi la capacità di consapevolizzare quello che sta succedendo dentro di sé quindi nel momento in cui diamo strumenti a chi domani sarà un medico, in corsia, un infermiere o chi sarà un psicologo, un psicoterapeuta oppure chi vorrà fare come mestiere, professione, l'health coach strumenti in grado di poter richiamare il termine corretto e licitare quindi nell'individuo quelle naturali capacità ma soprattutto risvegliarlo, mi consente di usare questo termine da questa lobotomia sociale che ogni tanto ci oblumina il sensorio e ci fa codificare perdendo il contatto con noi ecco, il fatto che si cominci nell'istituzione deputata alla formazione ad inserire elementi che andranno via via a cambiare il paradigma culturale di un professionista della salute e del cittadino ritengo che sia, anche se come diceva siamo stati i pionieri oggi sia stato veramente una grande soddisfazione poterlo vedere vedere ed esserne anche partecipi perché poi in alcune aree specifiche formative siamo presenti in campo